Cari amici, come avevamo detto la volta scorsa, quest'oggi ci occuperemo di come imparare ad eleggere e innanzitutto ci occuperemo di quei vocaboli elettorali. Per concludere la nostra breve lezioncina vi istruirò su un problema di geometria politica, sia A, B, C, un triangolo equilatero di lato uguale a 1, noi tiriamo all'altezza a D e avremo, secondo il teorema di Talese, la seguente proporzione. A, B sta a B, C come D, C, nuovo lato sta da C, ma se il nostro lato è uguale a 1, sostituendo abbiamo 1, sta a 1 come D, C sta a 1. Quindi siamo riusciti ad eliminare la B, la B, C e la C, ma non siamo riusciti e non riusciremo mai ad eliminare la D, C, come voleva si dimostra. Buonessimo.